Ministro Di Maio, metta gli stivali. Ministro delle politiche agricole, mettete gli stivali e venite qui. Venite ad ascoltarci. Penso che bisogna rimettere gli stivali e tornare nei luoghi delle contraddizioni. Condividere l'odore del fango. Condividere e capire la sofferenza di tanti uomini e donne che lavorano in luoghi sperduti e immaginare, immedesimarsi nei panni, nei dolori dei riders che lavorano nelle nostre città e hanno un salario da fame. Quanto ai braccianti hanno un salario da fame. Quanto molti giovani, precari, freelance, lavoratori che vivono una miseria perché quel lavoro non gli dà dignità, perché quel lavoro non è emancipazione, perché quel lavoro non è riscatto sociale. Faccio un invito, posso? Sì, un invito e poi chiudiamo. Dimmi Abu Pag. Metta gli stivali vengano nei campi insieme a noi.